Nonna, mangio con te oggi. Non è una novità. Guarda, buttala, lavala prima. La scatoletta del tono va nella plastica e nella metalli. Sciacqua la bottiglia e lo sai dove che la deve buttare. Vieni, Flavia, questa non è la differenziata. No, 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 questa si butta nella carta, come vedi, c'è scritto qua. Ah, allora lo sapevo. Flavia, vuole la cena di ieri sera e l'hai lasciata qua. Vabbè, che ci vuole, lo puoi dire differenziata. No, ma nell'umido lo devi buttare. Flavia, che stai facendo? Mi butto indifferenziata. È colpa mia che non compri piatti biodegradabili, compostabili. La plastica va nella plastica, basta risciacquarli velocemente. Il guscio dell'uovo va nell'umido. Il tappo va nella plastica e la busta nel cartone. Gli spiedini di legno vanno nell'umido insieme al fazzoletto sporco di olio e la vaschetta di alluminio va buttata in plastica e in metalli. Ogni cosa ha il posto giusto, differenzia correttamente.